Ciao, sono Saulo Lucci, sono qui per ragguagliarvi sulla prossima data di Hello Dante, che andrà in scena venerdì 18 ottobre alla libreria Il Ponte sulla Dora, in cui porterò il quinto canto, quello di Paolo e Francesca. Ragguagliarvi? Non ti piace? Vabbè, dico un altro per informarvi. Ma no, non sto rimproverando nessuno. Ma no, quello è redarguirvi. Vi devo informare sulla prossima... Sì, l'informazione adesso gliel'ho data, però è un po' più ampia l'informazione che devo dare, no? Dobbiamo dire del... sì, venerdì facciamo Paolo e Francesca, però la cosa rientra in un programma più ampio, una piccola rassegna che si chiama ingresso libro, in cui la gente non paga un biglietto, ma compra un libro come fosse un biglietto. Sì, sì, quel giorno lì ti compri un libro, quel libro lì ti vale come biglietto per la sera, o te la compri la sera stessa. Poi fanno la vetrina con tutti i libri esposti, quelli comprati che hanno permesso la serata. È un'idea bella, no? Nel senso che poi è una rassegna perché ci sono anche altre serate. Cosa c'è? Il 12 novembre ci saranno le due Obregal, il 5 dicembre i Trigomigo e il 12 gennaio Marino Sinibaldi. Possiamo dire il 12 gennaio, udite, udite, Marino Sinibaldi. Come chi è Marino Sinibaldi? È il direttore di Radio 3. È importante. Facciamo udite, udite, no? Possiamo... dai, rifacciamo. Sì, dico tutte queste cose. Ciao, sono Saulo Lucci, sono qui per informarvi della data... Cosa c'è che non va? Perché non posso dire... Ma perché non posso dire Saulo Luc... Ah, perché tu dici mi conoscono già, sì. Perché c'è su Facebook, c'è, chiaramente. Però per dire George Clooney lo dice, hi, I'm George Clooney. No, no, cioè tu lo sai che è George Clooney, no? Però lui lo dì. Dice che non ha lo stesso effetto se... Ciao, Saulo. Ciao, sono qui per... Cosa fai a dire? Ciao, cosa... È troppo cantelenato? Ciao, ciao... Ah, sì, hai ragione, è troppo cantelenato. Devo dire ciao. Ciao. Vi informo... Ciao. Senti, facciamo che non dico niente. Ciao, leggite le informazioni. Comprati il libro e ti guardo lo spettacolo. Non si può lavorare con te, ma... Ma ogni cosa, ogni cosa devi stare a fare. Ma scusa, ma io poi queste cose dei video su Facebook, veramente, una roba è un supporto. Ciao. 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 Grazie a tutti.